Questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di un pratese, 40 anni e di un 48enne, originario del Salernitano. Entrambi, già noti alle forze di polizia, sono accusati di furto pluriaggravato messo a segno nella farmacia comunale del centro commerciale di Via Gramsci, a Sesto Fiorentino. La sede tra il 30 e il 31 dicembre scorso, dopo aver sfondato con la grata di un tombino la vetrina della farmacia, si sono introdotte all'interno del negozio. Hanno tagliato con un flessibile l'armadio blindato, impadronendosi del denaro contante oltre 10.500 euro custodito al suo interno. Gli agenti delle volanti del commissario cittadino della squadra mobile della Questura e della Polizia Scientifica di Firenze sono intervenuti subito dopo. Dopo aver messo fuori uso il sensore del fumo installato all'interno, i ladri sono passati in azione con il flessibile, ma uno dei soggetti ha afferrato una cassettiera senza guanti, lasciando un'impronta. Ad incastrare entrambi gli arrestati sono state due distinte tracce di sangue lasciate sul luogo del delitto. Le telecamere di sorveglianza hanno poi ripreso responsabili mentre si ferivano uno ad una mano e l'altro ad un dito, mentre staccavano il pannello del sensore antifumo. I riscontri del DNA hanno fatto il resto. In corso ulteriori accertamenti sulla presenza di altre persone che facevano da palo. Il 48enne Campano è anche ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un negozio di alimentari di Quarrata in provincia di Pistoia. Gli arrestati si trovano entrambi al carcere di Prato.